Ciao amici, ben ritornato in un'altra puntata della reazione dell'americano. Io sono l'americano, mi chiamo Franco. Oggi faremo un po' di Edoardo Benato. I know che a voi mi piace, eppure è piaciuto a me il poco che ho sentito, no? Scusa, scusa. Oggi, come ho detto, faremo Edoardo Benato. Ho solo conosciuto qualche canzonetta di lui, e finora è piaciuto. Questo era un grande talento, uno dei grandi vostri in Italia. La canzone che farò si chiama Sono Solo Canzonetti. Sono Solo Canzonetti, da Edoardo Benato. Non so che mi devo aspettare, ma penso che sarebbe qualcosa buona. E penso che voi già lo sapete se è buona o no. Comunque, siamo pronti amici, sono Solo Canzonetti. Edoardo Benato. Ok, questo già, solo ho sentito un secondo, mi fa ricordare della musica dell'anni cinquanta americana, il fifties rock. Tutti avevano le donne lunghe, con quel cane, il poodle, in italiano il poodle, non sono sicuro come si chiama. Ma, sì, che ci sono già, ora, se continua così, io non so. Ma, ah, il barboncino, ok. Avevano, all'anni cinquanta le donne e le ragazze avevano il barboncino col cane stampato sui vestimenti, perché, io non lo so. Anyways. Non so troppo della storia. Anyways. Ora siamo pronti amici. Ricominciamo. Abbiamo sentito già due secondi e già avuto opinione. Oh, è quel tipo di musica piace. E' questo tipo di musica che sempre mi è piaciuto. Mi ricordo che anni fa, ti sfuggi da dentro un bai, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino, la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi fa. Non potrò mai diventare direttore generale, delle poste, delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. mai nessuno mi darà il suo voto per parlare, o per decidere, del suo futuro. Nella mia categoria, tutta gente poco seria, di cui non ci si può affidare. non c'è. E' un po' più difficile. Per esempio. Però non c'è la storia. Non c'è il tuo punto di oggi più. Ma non c'è la storia. E' un po' più difficile. Gli altri, magari non c'è la storia. E trasferno di questi, magari, non c'è la storia. Quindi tutto è importante. E questo, sì che è proprio un po' più facile, ma non c'è la storia. Grazie a tutti. Io ti risposte, non ne ho. Io faccio solo rock and roll. Rock and roll, baby. Ho un testo, non ho visto questo in città. Mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. La canzone piace, è un stilo molto più antico, doo-wop, può essere fifties, l'anni cinquanta. Per me sta piacendo molto, anyways. Ora ricominciamo, la finiamo. È una canzone condenda. C'è un po' di contentezza. Se non lo sentite, magari io sto sentito sbagliato. Anyways, ritorniamo. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale. Hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che sono pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malattia, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è, se vi pare, ma lasciatemi sfogare. Non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola, vi urlerò. Non c'è paura, a che politica, a che cultura, sono solo canzonette. Non mettetemi alle strette, sono, sono, sono solo canzonette. Non è oppure, a che vitale è no? Questa è propri attenzione. Non è buona quasi. Allora non vedrai. Questo è proprio... Non so quando è uscita questa canzone. Vediamo. fammi pausare... ok sono solo canzonetti, ok sono dal 1980, il primo d'aprile 1980, pesce d'aprile amici, non è da quel tempo ma ho voluto fare qualcosa che faceva ricordare del tempo doo-wop, quella era della musica... I guess la musica rock era il principio della musica rock. All right, so, mi ha piaciuto, bello, una canzone contenta, un buon... I don't know, piacevo molto, come non poteva piacere. Bene amici, iscritti, clicca piace, ci sentiamo prestissimo, ciao. Grazie. Grazie.